bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata il caso di oggi amici sarà come sempre una storia molto triste ma vi avverto perché questa vi farà arrabbiare prima di cominciare però voglio ringraziare lo sponsor che supporta il mio canale e il video di oggi cambli cambli è una piattaforma di e-learning diversa da tutte le altre proprio perché vi consente di imparare l'inglese adattandosi completamente a tutte le vostre esigenze cambli ti permette di fare lezioni individuali con insegnanti madrelingua disponibili 365 giorni l'anno 24 ore su 24 potrete scegliere tra abbonamenti di diversa durata lezioni da 15 30 o 60 minuti per 2 3 o 5 volte la settimana quindi praticamente potete personalizzare il vostro corso in tutto cambli include nel prezzo anche diversi corsi come IELTS o TOEFL inglese commerciale e tantissimi workshop come per esempio la preparazione ad un colloquio di lavoro interamente in inglese potrete scegliere il vostro insegnante tra gli oltre 25 mila presenti decidendone la pronuncia la personalità gli interessi e il livello di inglese tutto in funzione delle vostre esigenze ed è inutile dirvi che anche io non ci ho messo molto a trovarne uno appassionato di true crime le videochiamate possono essere registrate e riviste tutte le volte che volete ma soprattutto hanno un traduttore integrato perfetto per riascoltarvi e correggere i vostri errori ma adesso veniamo a noi perché con il codice sconto true crime avrete uno sconto del 50 per cento sul vostro abbonamento annuale e 15 minuti di lezione individuale completamente gratuita quindi cosa ne dite di fare almeno una prova trovate il link sotto in descrizione e come sempre prego non c'è di che e ora amici torniamo alla storia di oggi oggi parliamo della storia di Brack Bednar Brack David Bednar nasce il 17 marzo del 1999 a Londra e vive con i suoi genitori e con i suoi tre fratelli in una cittadina di nome Catherine nel distretto di Surrey che si trova praticamente sotto Londra in Inghilterra i suoi genitori si chiamano Barry e Lauren ma purtroppo nel 2006 divorziano e il padre Barry va via di casa e si trasferisce in un'altra città lasciando i suoi quattro figli da soli con Lauren che si vede costretta a trovare lavoro come insegnante come supplente per riuscire a mantenere la famiglia Brack ha 14 anni e i suoi tre fratelli che tra l'altro sono tre gemelli di nome Carly, Chloe e Sebastian hanno 12 anni e sono tutti molto uniti tra loro i tre gemelli hanno molta stima di Brack era il fratello maggiore anche se aveva solo due anni più di loro e lo reputano proprio una fonte di ispirazione ogni volta che Brack tornava da scuola infatti i gemelli volevano sempre che gli raccontasse tutto quello che aveva imparato quindi Brack aveva l'abitudine di mettersi lì a raccontare mentre i gemelli lo ascoltavano imbambolati seduti tutti intorno a lui Brack e i gemelli hanno un bellissimo rapporto e hanno un bellissimo rapporto anche con la loro madre Lauren che infatti è vista da loro come una mamma non convenzionale Lauren è molto più spassosa delle tipiche mamme e anche un po' matta nel senso buono del termine era simpaticissima Lauren racconta che da piccola lei non faceva parte di una famiglia numerosa quindi voleva godersi quella sensazione di avere finalmente una famiglia numerosa tutta sua voleva che ogni giorno in quella casa fosse come una festa le piaceva invitare sempre gente a casa i suoi amici i figli dei suoi amici le piaceva decorare la casa per ogni occasione insomma le piaceva divertirsi ma quando suo marito era andato via di casa Lauren aveva iniziato a dipendere un po' troppo dal suo figlio maggiore Brack che aveva anche iniziato a chiamare il suo braccio destro questa cosa mette sulle spalle di Brack delle responsabilità che non gli spettano in quanto un ragazzino di 14 anni dovrebbe avere le responsabilità di un ragazzino di 14 anni non dovrebbe essere il braccio destro di sua mamma però Brack si prende carico di questo ruolo e si destreggia tra le cose da fare a casa e le sue responsabilità scolastiche e questo per farvi capire che persona è Brack è proprio predisposto alla famiglia a soli 14 anni aveva senza nessun problema assunto il ruolo di uomo di casa Brack va anche molto bene a scuola anzi uno studente modello ed entra anche a far parte di un'organizzazione giovanile militare volontaria britannica di nome Air Training Corps organizzazione molto popolare tra i suoi compagni e tra i suoi insegnanti Brack ama anche la tecnologia uno dei suoi passatempi preferiti infatti è aprire i computer solo per poterli ricostruire pezzo per pezzo come molti dei suoi compagni di scuola amava anche giocare ai videogiochi infatti ad un certo punto fonda il suo gruppo di online gaming insieme ad altri sei amici usando una piattaforma che si chiama team speak 3 che sarebbe molto simile a skype per intenderci su team speak il gruppo di amici giocava a giochi tipo call of duty battlefield e ci giocavano usando un server di un utente chiamato eagle one six questo utente eagle one six si era presentato ai ragazzi come lewis danes e aveva fatto subito amicizia con loro diceva di essere un facoltoso ingegnere informatico che aveva costruito una compagnia multimilionaria che produceva dei prodotti software top secret questo lewis diceva di non stare mai fisso in un posto per troppo tempo a volte era new york e lavorava per il dipartimento degli stati uniti a volte era in siria che aiutava i ribelli donandogli milioni di dollari in bitcoin per la loro causa lewis dice anche ai ragazzi che non c'era bisogno che studiassero o che andassero bene a scuola perché lui avrebbe fatto in modo personalmente che dopo il diploma trovassero dei lavori super che gli avrebbero fatto guadagnare dei bei soldi insomma gli promette che i lavori che gli avrebbe trovato gli avrebbero fatto guadagnare centinaia di migliaia di euro di pounds in questo caso breck si lascia affascinare da queste storie e inizia a passare sempre più tempo online solo per parlare con questo lewis e dopo un po la sua personalità inizia a cambiare da che breck era un ragazzino dolce responsabile e dedito alla famiglia fin troppo come abbiamo visto era appunto praticamente l'uomo di casa ecco dal giorno alla notte questi aspetti di lui svaniscono breck diventa un adolescente irascibile che odia passare il suo tempo con i suoi fratelli ma soprattutto con sua madre le sue frasi iniziano a cominciare sempre di più con lewis dice per esempio dice a sua madre cose come lewis dice che non dovrei fare le faccende di casa lewis dice che non c'è bisogno che io vada a scuola perché tanto lui può farmi entrare a lavorare in microsoft sua madre lorin allora decide di contattare suo padre che onestamente non ho ben capito quanto fosse presente nella vita di questi figli ma comunque i due genitori insieme ad un certo punto si siedono a tavolino con breck e tentano di farlo ragionare ma questo porta solo ad altri litigi disperati lorin e barry allora decidono di incontrare i genitori degli amici di breck gli altri membri del gruppo di online gaming ma da questi incontri non viene fuori nulla che riesca a tranquillizzare i due genitori ma alla fine nel dicembre del 2013 lorin non sapendo più che cosa fare prende una decisione diciamo estrema decide di chiamare la polizia e decide di parlargli di questo lewis danes gli dice che secondo lei era un predatore che stava cercando di adescare suo figlio breck ma purtroppo figuratevi le autorità non fanno assolutamente nulla non provano neanche ad indagare su questa persona il rapporto tra lorin e breck si era ormai disintegrato e lei non riusciva ad avere nessun tipo di influenza su suo figlio breck vedeva questo lewis come una sorta di guru dell'informatica e più il tempo passava più il comportamento di breck cambiava in peggio lorin si sente sola in questa situazione e dato che le autorità non avevano fatto nulla per aiutarla decide di provare a risolvere la questione da sola installa delle app per il controllo parentale su tutti i dispositivi del figlio gli limita l'accesso ai dispositivi e gli proibisce di usare il server di lewis danes quello che usava per parlarci breck ovviamente si rifiuta di accettare queste regole al che sua madre gli confisca direttamente il computer ma purtroppo amici come vediamo spesso anche solo qui sui miei video gli adolescenti sono creature spaventose e più i genitori tentano di proteggerli più loro spesso a volte si allontanano l'abbiamo visto mille volte e anche breck non era diverso infatti i tentativi disperati di lorin non fanno altro che avvicinare ancora di più breck a questa persona a lewis il 16 febbraio del 2014 è passato più di un anno da quando breck ha fondato il gruppo di gaming e da quando ha conosciuto quel lewis quella sera breck dice a sua madre che sarebbe andato a dormire da un suo amico che viveva lì vicino e che sarebbe tornato il giorno dopo sua madre e i suoi fratelli lo avevano salutato senza farsi troppe domande sicuri che lo avrebbero rivisto il giorno seguente ma la verità è che breck aveva mentito infatti breck aveva continuato a comunicare con lewis ovviamente e quest'ultimo qualche tempo prima gli aveva confidato di avere una malattia terminale di conseguenza gli aveva detto che insomma ora aveva bisogno di trovare una persona fidata a cui lasciare la sua compagnia multimilionaria e la persona a cui voleva lasciarla amici secondo voi chi era ovviamente era proprio breck e purtroppo amici breck gli aveva creduto lewis aveva quindi detto di volerlo incontrare e breck aveva accettato breck accetta di prendere un taxi fino a grace una cittadina nell'essex posto in cui lewis viveva e lewis si era offerto di pagare lui lo spostamento d'altronde era un multimilionario cosa sarà mai un viaggio di due ora in taxi breck allora quella sera prende il taxi e una volta arrivato a grace si dirige verso rosemary road la via in cui in teoria si trovava l'appartamento di lewis una volta arrivato all'indirizzo corretto breck bussa alla porta ma ad aprirgli non è un uomo facoltoso multimilionario ma un adolescente esattamente come lui che non appena apre la porta afferra breck lo tira dentro l'appartamento e gli serra la bocca con del nastro adesivo con cui gli lega anche polsi e caviglie e non sappiamo esattamente che cosa sia successo in quell'appartamento quello che si sa è che ad un certo punto senza nessuna pietà lewis aveva preso un coltello e aveva tagliato la gola di netto al povero breck che nel giro di qualche secondo era morto dopo questo gesto abominevole lewis scatta diverse foto del corpo senza vita di breck e condivide tutto online queste foto fanno rapidamente il giro di internet e vengono viste da alcuni amici di breck che le prendono e le inviano ai suoi tre fratelli forse pensando che si trattasse di foto finte successivamente lewis si fa una doccia si cambia i vestiti e poi telefona le autorità locali e con un tono di voce molto inquietante gli dice io e il mio amico abbiamo avuto una discussione e io sono l'unico che ne è uscito vivo esistica polisone emergency hi there um ok hello um i need police and a forensics team to my address please what do you mean what's happened my friend and I got into an altercation and I am the only one who came out alive are you telling me you've killed somebody yes la polizia rintraccia la telefonata e si dirige velocemente all'abitazione e una volta arrivati sulla scena del crimine è chiaro agli occhi degli agenti che non ci fosse stata nessuna discussione nessuna lotta tra i due l'appartamento era pulito non c'era nessun segno di lotta c'era solamente il corpo senza vita del povero break per terra con ancora i polsi e le caviglie legate e la sua gola completamente tagliata era chiaro che lewis aveva adescato break e lo aveva convinto ad andare da lui con il solo fine di ucciderlo nell'appartamento la polizia trova i vestiti di lewis in una busta dell'immondizia e purtroppo amici ho letto che le autorità hanno trovato prove che lewis avesse anche fatto violenza a break ma i detective non hanno mai voluto rilasciare al pubblico nessuna informazione riguardo questa cosa quindi non si sa nulla di più si sa solo che è successo i detective non ci mettono molto ad identificare il responsabile il suo nome era effettivamente lewis danes aveva 19 anni ed era effettivamente un ingegnere informatico però disoccupato e decisamente non multimilionario aveva anche dei precedenti penali piuttosto gravi nel 2011 era stato accusato di possedere materiale pornografico e anche di aver fatto violenza ad un ragazzino e questo era successo circa tre anni prima che conoscesse break e che iniziasse a giocare con lui online purtroppo per questi crimini era stato arrestato ma era stato rilasciato dopo pochissimo tempo la notizia della morte di break chiaramente devasta i suoi genitori e sua madre in un'intervista racconta che non avrebbe mai immaginato che questo lewis fosse un assassino la sua paura più grande era che fosse in realtà un uomo adulto un profilo insomma ma un assassino no non aveva mai neanche pensato a questa eventualità lewis viene immediatamente trovato e arrestato scoprono che prima dell'arrivo delle autorità aveva buttato tutti i suoi dispositivi elettronici in un lavandino pieno d'acqua forse nella speranza che le autorità non trovassero mai tutte le conversazioni passate tra lui e break lewis viene accusato di omicidio ma inizialmente si dichiara innocente questo però fino al novembre del 2014 quando improvvisamente cambia idea e si dichiara colpevole e a quel punto comunque l'accusa aveva già dimostrato in aula che il baby face come i media avevano iniziato a chiamarlo per via del suo viso che lo faceva davvero sembrare un bambino lo faceva sembrare ancora più giovane di quello che già era dimostrano appunto che aveva comprato preservativi nastro adesivo e siringhe solo pochi giorni prima dalla morte di break questo dimostrava che avesse intenzioni sadiche dimostrava premeditazione ma la difesa rimane molto delusa dalla sua dichiarazione di colpevolezza perché loro erano pronti ad usare come strategia di difesa il fatto che lewis soffrisse di sindrome di asperger che secondo loro limitava la sua capacità di giudizio per chi non lo sapesse la sindrome di asperger è una forma particolare di autismo caratterizzata da ridotte capacità comunicative e di socializzazione ma non vedo come questo possa essere correlato al crimine spaventoso che lewis aveva commesso trovo che questa strategia di difesa che il suo avvocato voleva adottare e su cui contava così tanto sia una grave offesa a tutte le persone che soffrono di sindrome di asperger ma questa è solo la mia opinione e il suo avvocato ha anche il coraggio di dire che comunque non c'erano abbastanza prove per dimostrare che lewis avesse premeditato tutto no in ogni caso la dichiarazione di colpevolezza di lewis aveva almeno risparmiato alla famiglia di breck un lunghissimo e straziante processo in cui avrebbero dovuto vedere e sentire tutti i dettagli della morte del figlio nel gennaio del 2015 lewis danes viene condannato all'ergastolo con la possibilità di poter chiedere la condizionale dopo 25 anni durante l'udienza il giudice aveva detto a lewis che i dettagli di quello che era successo nel suo appartamento quel giorno non sono chiari e probabilmente non si sapranno mai ma era chiaro che quel delitto era stato spinto dalla sua natura sadica e malvagia e da un momento sessuale anche l'avvocato dell'accusa ha dichiarato ai media le seguenti parole lewis danes aveva solo 18 anni al momento del delitto ma si tratta di un individuo estremamente manipolatorio che ha pianificato il tutto con attenzione il livello di manipolazione pianificazione di questo delitto è scioccante e se consideriamo la giovanissima età del perpetratore questo caso diventa senza dubbio uno dei più crudeli violenti e inusuali che io abbia mai visto ma nonostante lewis avesse ricevuto una pena molto severa la famiglia di breck non era soddisfatta di come il caso era stato gestito laurin e il suo ex marito infatti ritenevano responsabili le autorità della morte di loro figlio perché laurin aveva provato a chiedere aiuto aveva chiamato le autorità dicendogli nome e cognome di lewis che a quanto pare non usava neanche uno pseudonimo e oltretutto aveva anche dei precedenti quindi se solo avessero indagato se solo avessero ascoltato laurin a quest'ora breck forse sarebbe ancora vivo laurin dichiara ai media queste parole mi si spezza il cuore al pensiero che un minuto del tempo di qualcuno avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi mi uccide pensare che una piccola azione avrebbe potuto salvare la vita di breck e pensate che breck è stato ucciso solo due mesi dopo quella telefonata alle autorità e la cosa più triste amici è che il giorno in cui breck è stato ucciso era anche il compleanno di sua madre laurin in un'altra dichiarazione laurin ha voluto ricordare breck dicendo queste parole il mio cuore è spezzato e sono persa senza il mio breck non sarò mai più la stessa mio figlio è stato ucciso il giorno del mio compleanno quest'anno è una parte di me è morta insieme a lui breck era il mio stupendo intelligente bellissimo bambino un figlio meraviglioso che ci mancherà per sempre aveva così tanto potenziale che non potrà mai raggiungere aveva così tanto da dare a questo mondo poco dopo l'arresto di lewis la famiglia di breck fa causa al dipartimento di polizia del sussex e dell'essex per non aver dato importanza alle segnalazioni di laurin questa denuncia insieme alla montagna dei attenzioni che il caso aveva attirato da parte dei media costringe le autorità a cambiare le loro procedure e il loro modo di gestire alcuni procedimenti in ogni caso parte un'investigazione su questi dipartimenti di polizia un'investigazione che dura dieci mesi da queste indagini viene fuori che l'operatore telefonico del numero d'emergenza che aveva parlato con lorin non aveva neanche le conoscenze necessarie per svolgere quel lavoro e per gestire quel tipo di emergenze e a quanto pare neanche il suo supervisore le aveva e questo è probabilmente il motivo per cui le segnalazioni di lorin sono state ignorate inoltre nessuno al telefono aveva indirizzato lorin verso magari altre organizzazioni che avrebbero potuto aiutarla come per esempio il ceop che sarebbe l'organizzazione inglese che si occupa proprio di questo si occupa di proteggere i minori dai predatori online quindi avrebbero potuto dirle di rivolgersi a loro ma nessuno lo ha fatto l'investigazione sui dipartimenti di polizia ha inoltre dimostrato che se solo avessero fatto una veloce ricerca su Lewis sarebbe venuto fuori il suo precedente arresto del 2011 quindi è stata proprio una mancanza di attenzione di cura comunque i risultati di questa investigazione vengono resi pubblici e la famiglia di break finisce per vincere la causa ma purtroppo il loro incubo non era ancora finito perché a circa dieci mesi dall'arresto di Lewis quest'ultimo aveva deciso di creare un blog con l'intenzione di scagionarsi di dimostrare la sua innocenza il suo primo post viene pubblicato il 26 novembre del 2015 e ha come titolo lettera aperta da Lewis Danes e in questo post scrive le parole che vi cito e preparatevi perché vi farà innervosire non poco break è stato allontanato dalla sua famiglia e spinto verso il mondo virtuale trovava conforto negli amici che si era fatto online break aveva confidato a me e agli altri membri della nostra comunità online che subiva violenze e abusi a casa sua abusi da parte di qualcuno che avrebbe invece dovuto proteggerlo e amarlo qualcuno che avrebbe dovuto incoraggiarlo e supportarlo nelle sue speranze nei suoi sogni e nella carriera che lui aveva scelto e che condivideva con noi i suoi amici virtuali che lo ascoltavano e che gli davano consigli su come affrontare quegli abusi alcuni di noi hanno anche assistito e registrato questo individuo abusante che ogni giorno tornava a casa in stato di ebrezza e che abusava di break urlando e umiliandolo e spesso picchiandolo inducendo break ad avvicinarsi sempre di più verso la sua vita virtuale paradisiaca che aveva trovato spesso si chiudeva nella sua camera per nascondersi queste cose le ha condivise con me e con altri membri il suo abusante è ben noto alla polizia altre persone hanno precedentemente denunciato questa persona alle autorità per violenza domestica e queste denunce sono facilmente verificabili e non contento Lewis continua scrivendo questa violenza costante e questi abusi psicologici hanno distrutto l'autostima di break hanno distrutto le sue speranze i suoi sogni di una carriera che sognava di intraprendere ci diceva che lo costringevano ad andare in chiesa cosa in cui lui non aveva nessun interesse pensandoci adesso penso che sia questo il motivo per cui abbia formato un legame così forte con me palesemente provava conforto a parlare a confidarsi con me sfogandosi delle violenze e degli abusi e conclude scrivendo break sarai sempre nei miei pensieri spero tu stia riposando in pace mi dispiace molto il tuo amico Lewis Danes ok questo post fa imbestialire lorin e tutta la famiglia di break che poi perché una persona del genere è libera di scrivere quello che vuole contro la famiglia della vittima di cui lui stesso è il carnefice da quello che ho letto nessuno ha mai capito come abbia fatto Lewis a pubblicare questo post non si è capito se lo abbia effettivamente scritto lui dalla prigione in qualche modo o se lo abbia fatto scrivere a qualcun altro fuori la famiglia di break tenta di denunciare Lewis per molestie ma la polizia gli comunica che non c'erano senza prove per dimostrare questo e quindi non era possibile nel senso che a quanto pare non riuscivano a dimostrare che fosse stato effettivamente lui a scrivere quel post anche se lorin è convinta di sì tentano allora di fare eliminare questo blog ma anche questo a quanto pare non era possibile e questo è solo l'inizio amici nel 2019 una delle sorelle di break inizia a ricevere dei messaggi inquietanti su snapchat da parte di qualcuno che diceva di essere proprio Lewis in un messaggio questa persona aveva scritto so dove è sepolto tuo fratello andrò lì e distruggerò la sua tomba e a quanto pare questa persona aveva anche mandato una descrizione di dove si trovasse esattamente la tomba di break lorin era certa che dietro quell'account ci fosse davvero Lewis in qualche modo perché sosteneva che non fosse neanche la prima volta che cercava di contattarla e di minacciarla tra i messaggi questa persona diceva anche di essere in possesso di foto di break nudo e minacciava di volerle divulgare di nuovo la famiglia si rivolge alle autorità terrorizzati da questi messaggi che stavano ricevendo ma gli agenti gli consigliano semplicemente di ignorarli e di installare un buon sistema di sicurezza in casa poco dopo tutto ciò la sorella di break riceve anche una richiesta d'amicizia su instagram da parte di una persona che diceva di essere il suo fratello defunto break ma di nuovo si rivolgono alle autorità che ovviamente non fanno nulla e contattano anche l'assistenza di instagram che gli comunica che soltanto la persona vittima di impersonificazione poteva richiedere la rimozione del profilo falso quindi secondo loro solo il defunto break avrebbe potuto richiedere la rimozione del profilo fake non importava che appunto fosse morto non potevano fare nessuna eccezione lorin era estremamente delusa dalle autorità dalle piattaforme social e capisce che rendere internet un posto più sicuro sarebbe stata un'impresa non facile ma per fare in modo che altre famiglie non dovessero affrontare il dolore che avevano dovuto affrontare loro nel 2015 lorin fonda un'organizzazione benefica chiamata la fondazione di break che mirava a prevenire l'adescamento di minori su internet attraverso l'educazione e la consapevolezza e il loro motto era play virtual live real quindi gioca virtualmente ma vivi realmente nella vita reale nel 2018 la fondazione lancia una campagna di nome no tech for break che si trattava di un'iniziativa che incoraggiava gli adolescenti e i giovani in generale a prendersi una pausa dai loro dispositivi per una giornata intera così da essere più presenti nella loro vita reale nelle loro attività e nelle loro relazioni lorin si reca anche in diverse scuole in inghilterra per fare dei discorsi sulla sicurezza online e nel 2019 anche collaborato con le autorità per produrre un cortometraggio chiamato break's last game che è stato poi mostrato anche in molte scuole medie in tutta l'inghilterra lorin ci teneva a far capire ai giovani ma anche ai loro genitori che il predatore online non è per forza quello che ci immaginiamo ci immaginiamo lo stereotipo del vecchio inquietante che si spaccia per un ragazzino ma non è sempre così nel caso di lewis decisamente non era così era anche lui un adolescente ed è importante capire i segnali dell'adescamento così da poterli riconoscere perché gli amici di break per esempio alcuni avevano capito che ci fosse qualcosa che non andava in questo lewis ma non sapevano neanche cosa fosse l'adescamento di conseguenza non hanno saputo riconoscerlo come vi dico sempre amici la consapevolezza è potere se conosciamo qualcosa sappiamo riconoscerlo di conseguenza è più probabile che riusciremo ad evitarlo e questa cosa riguarda davvero ogni aspetto della vita lori nei suoi figli col tempo hanno imparato a convivere con questo dolore e in qualche modo hanno trovato la forza di andare avanti si sono trasferiti nelle coste del kent e nel 2020 è andato a trovarli e ad intervistarli una giornalista della rivista you magazine a quel punto i gemelli avevano 18 anni e avevano quasi terminato il liceo la giornalista che li ha intervistati si chiama anna moore e scrive nell'articolo che laurin sembrava ringiovanita l'aveva trovata radiosa si era da poco fidanzata e si sarebbe sposata a settembre di quell'anno il giorno dell'intervista laurin indossava i vestiti di break i suoi jeans e la sua t-shirt perché quel giorno sarebbe stato il suo compleanno il compleanno di break ed era anche l'anniversario del suo funerale e l'indossare i suoi vestiti era un modo per ricordarlo in quella data era una cosa che laurin faceva ogni anno la giornalista aveva chiesto a laurin come era riuscita ad andare avanti a convivere col dolore e laurin le aveva risposto che sicuramente il trasferirsi in un altro posto aveva aiutato racconta che per molto tempo non si era autorizzata a stare bene a divertirsi perché ogni volta che si divertiva si sentiva in colpa come se non meritasse mai più di ridere come se fosse una punizione per aver fallito nel proteggere suo figlio ma poi pian piano ha imparato ad essere più gentile con se stessa e a perdonarsi in un modo nell'altro quindi questa famiglia ha imparato a stare bene e a dieci anni da quella tragedia ci sono riusciti mentre invece Lewis Deines si trova ad oggi sempre in prigione e ci rimarrà probabilmente per il resto dei suoi giorni amici queste sono tutte le informazioni che avevo su questo caso mi raccomando state attenti e non dimenticate mai di allenare l'empatia ciao